Ciao a tutti da Chris Attigene, salutatore del blog, eccomi qui con Nick Giussino, Mauro Fortini e abbiamo un saluto per tutti gli amici di Bonacardo Bonacardo, Bonacardo salutiamo tutti gli amici di Bonacardo e tutta la Sardegna ma tutta la Sardegna, pure le isole comprese ogni minimo sassolino della Sardegna perché la Sardegna va amata, come la Sicilia, come il Napoli va amata di tutti, esatto, bravissimo salutiamo Paul Games perché fanno buono il formaggio pure il pesce, il pesce sardo che è buono salutiamo Paul Games ciao, Paolo Paolo Paul Games Paolo Porchente Paul Games Paul Games Paul Games ciao 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 ciao